rilanciando il caimani contest per il nuovo anno accademico sono andata a spulciare nelle vecchie performance questo è il caimani contest del 14 dicembre 2019 così come conservato da da luigi se quella scelta di titoli paolo aveva scelto crwd riccardo shop federico apple e via di seguito se quei titoli fossero stati mantenuti in portafoglio dopo 631 giorni il rendimento su base annua di quei titoli sarebbe stato per paolo del 264 per cento per riccardo del 172 per cento e così di seguito 112 per cento per luciano 71 per federico via di seguito cioè a dire che cosa dire che la scuola dei caimani è questa delle volte bisogna saper persistere bisogna saper insistere bisogna saper applicare bene le ricette poi dopo avere fiducia in quello che si è fatto bene vedremo l'anno prossimo comandare andrà bene sono sicuro che andrà bene bene bene